Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Guidare con prudenza per la nebbia banchi in A1 tra Roncobilaccio e Aglio. Prestare attenzione anche alla pioggia in A12 tra Pisa Centro e Rosignano e in FIPILI tra Firenze e San Mignato. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla strada regionale 429 di Valdelsa, senso unico alternato e restringimento di carreggiata per lavori tra i chilometri 70 e 950 e 71 e 100 a Empoli. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!